Presidente Casini, negli ultimi giorni in una campagna elettorale flash i sondaggi sono concordi in una rimonta del PDL e di Berlusconi. Non pensa che l'incertezza di questi risultati elettorali in qualche modo confermi il fallimento del bipolarismo in Italia? Il bipolarismo è morto e sepolto. Siamo contenti di averlo accompagnato al cimitero, diciamo così, perché noi siamo quelli che abbiamo sempre opposto il nostro lavoro politico all'idea di un bipolarismo che ha finito per portare fuori strada questo Paese. Non vedrei questa rimonta di Berlusconi che vede lei, nel senso che oggi anche i sondaggi che ho letto per il valore che possono avere che è relativo, ma comunque nessun sondaggio da Berlusconi tanto vicino al centro-sinistra. Credo che ci sarà la sorpresa di Monti e della nostra coalizione che sarà molto meglio di quello che viene visto dai sondaggi e c'è certamente Grillo che è in grande spolvero e questo è una constatazione, ma secondo me Grillo non è la causa dei problemi che abbiamo, è il termometro della difficoltà che ha la politica a registrarsi sulla sintonia con la gente. La Sicilia è la cassaforte dell'Udc in qualche modo dal punto di vista elettorale. Alle regionali, lo ha ricordato poco fa, c'è stato un buon risultato, un 11% che aveva confermato anche il risultato delle amministrative di Palermo, quindi è un'alleanza di governo che però si dovrà vedere quanto sia solida. Non crede che il clima in Sicilia, in particolare il grillismo di Crocetta, il lavoro che i deputati del Movimento 5 Stelle stanno facendo a Lars possa erodere il vostro elettorato, quello dell'Udc? No, non credo che eroda il nostro elettorato. Se fanno un buon lavoro, se fa un buon lavoro Crocetta per me è importante perché vuol dire che governa bene la regione. Diciamo che finora abbiamo visto tante affermazioni di buona volontà che noi abbiamo condiviso, speriamo che poi si passi veramente dalle parole anche ai fatti, ma questo è chiaro che non si poteva pretendere in queste prime settimane. Crocetta governa da quanto? Da qualche mese, per cui mi sembra che stia facendo bene, stia mettendo le carte in tavola, non temo affatto che Grillo possa erodere a noi, certamente erode ad altri, questo è abbastanza chiaro anche dai sondaggi. A proposito di Crocetta, lei ha parlato di un governatore che sta ben lavorando, seppure ha un lavoro influenzato dalla campagna elettorale in corso che non ha mai finito e che in qualche modo continuerà anche dopo le politiche, visto che in Sicilia ci saranno le amministrative. Questo tagliando al governo Crocetta di cui ha parlato il segretario regionale Dalia, come va fatto? Cosa chiederete a Crocetta di concreto dopo le politiche? A noi, per quanto mi riguarda, sarà l'Udc siciliana che deve chiedere, noi non abbiamo da chiedere qualcosa, noi abbiamo da verificare lo stato di attuazione degli impegni presi con i siciliani. Noi siamo ben contenti, non abbiamo nulla da chiedere a Crocetta, noi vogliamo solo che si governi bene e che sia la verifica seria di un lavoro puntuale che si sta avviando. L'unica cosa che ci interessa è questa, è che i siciliani al termine dell'esperienza Crocetta non passino da una delusione all'altra. Noi siamo impegnati con Crocetta per concretare quello stato d'animo che ha portato tanti siciliani a votarlo, per cui è tutto uno spirito di costruttività e di positività. Certo la campagna elettorale disperde, vediamo che il Presidente della Regione è molto impegnato a raccogliere voti, il che è perfettamente comprensibile, perché è impegnato anche a sostenere il suo partito a livello nazionale, per cui ha una sua lista, però tutto questo probabilmente se non ci fosse stato sarebbe stato meglio, d'altronde le elezioni nazionali non le ha convocate Crocetta, le ha convocate il Presidente della Repubblica, non possiamo prendercela con lui. Lei ha criticato la provocazione di Maroni che parla del 75% delle tasse pagate in Lombardia perché restino appunto in quella regione. Per il Sud però, una proposta di natura suddista, voi quale avete? No, nessuna, nessuna per la semplice ragione che noi non siamo dei mercanti. La gente che in campagna elettorale va al nord a fare la proposta per il nord, al sud a fare la proposta per il sud, vuol dire che il giorno dopo non applica né qualcosa al nord né qualcosa al sud. Questa è esattamente la metodologia che ci ha portato a... che ha portato questo Paese nella situazione drammatica in cui è. Basta promesse, noi non ce la facciamo più a sentire promesse. Dobbiamo concretamente porre alcune questioni, ad esempio io credo che un'avvertenza a livello europeo per utilizzare i fondi strutturali che sono stati non spesi per questa regione nei prossimi anni, riprogrammandola con incentivi forti sulle innovazioni industriali per le imprese che operano in Sicilia, questa è una strada. Sappiamo che è una strada da contrattare con la comunità europea, è una cosa su cui bisogna impegnare il governo siciliano e il governo nazionale e queste sono le strade delle proposte concrete. Il resto è fumo che rimane... quando uno come Maroni propone il 75% di tributi che rimangono in Lombardia, ma scusi, di quali tributi stiamo parlando? C'è anche una cosa irrealizzabile, stiamo parlando del nulla. Le faccio un esempio concreto. Se io ho un'azienda e ho la sede legale in Lombardia e i dipendenti, 300 dipendenti a Palermo, io con questa logica di Maroni dovrei lasciare tutto in Lombardia, ma le sembra una cosa che sia possibile, plausibile. Ma se invece di essere a Palermo i miei lavoratori fossero in Puglia dovrei lasciare comunque tutto in Lombardia. Ma sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè sono fumo che si vende alla gente con cui si scasserebbe lo Stato e il principio anche di una solidarietà interregionale. Parliamo di scenari. Lei ha detto che la coalizione con Monti non farà da stampella al governo di centrosinistra, ma appare in qualche modo rischioso il problema della governabilità visti i risultati che si prevedono o se saranno confermati al Senato. In questo quadro non pensa che forse dovrebbe accettare la coalizione di Monti di stringere un accordo con Bersani e con Vendola? Ma noi non abbiamo, il medico non ci ha ordinato di andare a fare un accordo con Bersani e con Vendola. I nostri elettori nemmeno. I nostri elettori ci hanno detto fate le persone serie, presentate un programma di riforme, siate coerenti con questo. Punto e basta. Noi tutto il resto è una fuga dalla realtà, è un tatticismo politico nella quale ci vogliono impiccare in questa campagna elettorale, ma noi vogliamo rimanere liberi, perché siamo liberi. Grazie. Grazie a lei.